Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Come state? Mi auguro bene, bene, bene. Inizia questa sosta pesante delle nazionali ma che in parte sono anche gradite perché dobbiamo recuperare qualcuno in vista delle prossime gare. Voglio parlarvi di un aspetto importante, voglio farvi una domanda ben precisa che sicuramente vi metterà in difficoltà ma sono curioso di leggervi. Per cui ragazzi io vi invito a iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, vi invito a commentare sotto e a partecipare attivamente alla discussione che andrete a innescare nei commenti. Anche tra di voi mi raccomando che poi nascono sempre delle bellissime amicizie e immergiamoci in questo video legato non ad Allegri, stavolta ve la siete scampata stamattina, anche se qualche notizietta su Allegri c'è. E poi parliamo anche un po' di mercato. La domanda che voglio farvi è la seguente. Immaginatevi di essere nella Juventus come calciatore. Durante la partita andate in difficoltà. Vi è mai capitato di giocare in uno sport e essere in difficoltà in uno sport di squadra? Ecco, per uno sport individuale dovete fare affidamento solamente a voi stessi. In uno sport individuale puoi guardare il compagno che ti rassicura, ti dà quella spinta, ti motiva, magari ti sgrida anche, ma è una sgridata che ha un fine di motivazione, di attivazione, di riattivazione. Vi chiedo, siete alla Juventus? Qual è il primo sguardo che cercate di incrociare nel momento in cui le cose vi stanno andando male? Siete in campo? Avete un momento di difficoltà? Quali sono gli occhi che cercate per avere quel tipo di attivazione? Questa è una domanda che mi sono posto e io ho trovato pochissimi, pochissimi giocatori che guardando negli occhi mi danno quelle rassicurazioni, quella tranquillità, che li vedo come dei leader. Ed è la mancanza di leadership e di personalità all'interno della squadra. è un tema anche questo, perché al di là delle grandissime responsabilità di Allegri in quello che non ha proposto, perché mi verrebbe da dire in quello che ha proposto e non ha funzionato, no? In quello che non ha proposto, perché ci sono delle lacune, delle carenze strutturali di gioco, di tattica, di concetti e una povertà clamorosa da quel punto di vista. Ok? Però, a livello di personalità, io vi dico, in difesa Bremer ha quella personalità neanche Danilo per me. Per me c'è un giocatore che dietro fa la differenza a livello di personalità ed è Tek Shesny e lo fa dentro e fuori dal campo. Dentro, perché secondo me ha la giusta personalità, si fa sentire, è uno che incassa anche l'errore, ma riparte subito, ha la capacità di resettare e questa secondo me ha una grande capacità, incoraggia la difesa, tira su il morale quando le cose magari sono un po' messe male là dietro, è uno che secondo me riesce a carriare, come si dice anche in ambito gaming, i compagni, riesce a trascinare. Altro giocatore, Gatti, sì ma di temperamento, è molto emotivo, non ha quella personalità da leader ancora, può diventarlo, ha una buona base, ha un buon temperamento che può far diventare un leader, ma non è un leader, quindi dietro io inquadro solamente ragazzi Shesny, che quando anche va ai microfoni e viene chiamato non gioca mai per 0-0, fa delle dichiarazioni che sono sempre, che fan discutere, ci hanno fatto discutere l'anno scorso, quest'anno stranamente non è più capitano, chissà perché, però lo fa per il bene della squadra, non lo fa mai per mettere se stesso prima degli altri, quindi lo apprezzo, lo apprezzo tanto. Per il resto ragazzi in difesa non trovo, è dei leader, Alexandro è un leader, Bremer non lo è, è un leader tecnico ma non è un leader dal punto di vista, non mi pare il giocatore che si fa sentire più di tanto eccetera, a mia modesta opinione poi, o mia percezione dall'esterno. Centrocampo, centrocampo c'è il nulla, a livello di leadership il nulla ragazzi, parliamoci chiaro, non c'è un leader chiaro. In attacco c'è Vlaovic che ogni tanto, Chiesa per me non è un leader, non il giocatore che ti trascina dal punto di vista umorale, dell'incoraggiamento eccetera, che è una porna, Vlaovic anche troppo a livello emotivo, però mi dà quelle buone sensazioni, poi basta. Abbiamo Chiesa e Vlaovic come leader, un po' poco. Per cui quando le cose vanno male e nello spogliatoio io poi a fine partita dopo Juve Genoa si decide che a dover andare a parlare è uno come Miretti, a me cascano un po' le braccia, perché Miretti è un giovane e andava tutelato in quella situazione, che poi risponde anche discretamente bene perché spedisce la palla in tribuna in quelle dichiarazioni là e fa bene, fa il suo, non può fare altrimenti, non può parlare da leader, però io ricordo che dopo i momenti brutti un tempo fa, chi andava a parlare era Gigi Buffon, chi andava a parlare era Patrice Vra, era gente che aveva le palle, poi per carità, percorsi differenti e anche momenti differenti di carriera, però quella gente, è sempre stata gente che non aveva Buffon, da quant'è che parlava i microfoni? Poteva dire anche cose scomode, cose che non piacevano, però ci metteva la faccia, altre la Juve non lo stanno facendo questo percorso e quello un po' mi preoccupa, al di là del discorso di mancanza tattica eccetera, l'allenatore che non va, che non è adatto e io sono stra d'accordo lo sapete, una cosa non esclude l'altra cioè nel senso sono due problematiche che convivono serenamente, ahimè, ahi noi, però la mancanza di personalità ragazzi è andato di fatto, per cui qualcuno vi dice eh no, no, l'allenatore non ha colpe, la squadra manca di personalità, non ha tutti i torti, nel senso li ha dal momento in cui dice no, caro mio, il problema l'allenatore non è un problema, anche l'allenatore è un problema, quindi è un problema quello, è un problema quell'altro, è un problema che si aggiunge ad un altro problema in realtà, almeno dal mio punto di vista, sia chiaro, nella discussione io direi così, però ripeto, la mancanza di personalità si vede e poi capisco che molti magari la personalità la vanno a forgiare nel tempo, con l'esperienza, eccetera, però io vi parlo di oggi, oggi, io sono in difficoltà, qual è il primo riguardo che cerco, era mio un leader secondo voi, dal punto di vista di trascino e, al carazzo poteva diventarlo secondo me, perché io l'ho visto in campo pochissimo, però mi ha dato quell'idea di uno che, dammi la palla, dai che faccio io, uno che sapeva quasi gestire il reparto con tranquillità, peccato, l'abbiamo visto poco, poi si è spaccato, tornerà sicuramente dopo la sosta, almeno con la Lazio, speriamo di averlo, e fine, questo è, altre notizie invece legate al calciomercato, Arthur ci sta rivitalizzando alla grande, alla Fiorentina, potrebbe essere rilanciato e potrebbe andare al Benfica, che è molto interessato, è giunto di cerca di incassare da questa eventuale trattativa almeno circa 15 milioni, che non sono pochi, vediamo, non si esclude ovviamente un prestito oneroso con diritto di riscatto visto l'ingaggio oneroso, però c'è la possibilità effettivamente di scialacquarlo, a me spiace perché secondo me è un talento che si è perso a livello mentale, perché ce l'aveva le caratteristiche per poter far bene, poi per un motivo o l'altro lui non si è trovato, ha avuto anche un infortunio, vi ricordate quella roba, quella padella di osso, di cartilagine che aveva condiviso sui social, anche quello alla Tibia, aveva tenuto un sacco di tempo fuori, e poi si parla di Kostic che ormai è via, ecco anche qua un altro problema gestionale che c'è stato è il seguente, abbiamo creato una squadra di gente che è a scadenza, abbiamo Rabiot, abbiamo Kostic, abbiamo Aleksandro, abbiamo dei giocatori che vanno a comporre la Rosa e sono dei titolari questi giocatori, che non sappiamo se domani hanno un futuro alla Juve, e pensare che questi possano buttarsi nel fuoco per la Juventus ad oggi, beh io mi dubbi, anche là forse qualche pensierino in più sulla costruzione della squadra andava fatto, sul cercare di tenere questi giocatori, allungarli un altro nel contratto, farli sentire dapprima giocatori ben integrati in quello che loro contesto, Kostic quest'estate abbiamo cercato di mandarlo via, ed è il risultato titolare, quest'estate inevitabilmente andrà via magari, per cosa l'ha tenuto sempre fuori, si è sentito secondo me a livello umano un po' a margine di questo progetto, ma ha buttato dentro per necessità, e il senso d'appartenenza secondo me sposta tanto, e quindi mi auguro che anche questi errori ecco non vengono più commessi da qui in avanti, poi io sono curioso di leggere le vostre opinioni, aspetto le vostre, mi mando un forte abbraccio ragazzi, e sempre fino alla fine, forza Juve!